A rischio la pulizia e la disinfezione dell'ospedale di menaggio e dell'ex ASL a causa di una nuova gara d'appalto a ribasso del 30% con una rimodulazione del monteore dei dipendenti senza una diminuzione del capitolato sia dei lavori da svolgere. L'allarme era arrivato nelle scorse settimane, ora i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione e giovedì mattina incontreranno il prefetto Ignazio Coccia per cercare una conciliazione. All'esito dell'appalto per ASST Valtellina e Altolario e per ATS Montagna, alla precedente azienda e subentrata Dusman che ha informato i sindacati del ribasso. Per la provincia di Como sono interessate 11 persone all'ospedale di menaggio e 5 all'ex ASL. CGL, CISL e Will si sono da subito dimostrate contrarie, due sono i problemi rilevati, uno riguarda il servizio stesso, l'altro l'importante diminuzione del Monte Ore. Luoghi come l'ospedale e l'ex ASL necessitano non solo del tempo necessario per la quotidiana pulizia e disinfezione, spiegano i sindacati, ma di operazioni complesse e delicate quali il risanamento. Per quanto riguarda la diminuzione delle ore, dobbiamo ricordare che quasi tutti i contratti sono part-time, quindi per molti lavoratori diverrebbe ancor più difficile arrivare a fine mese. Obiettivo dei sindacati incrementare l'orario per i dipendenti e difendere la qualità del servizio. Sempre giovedì prima dell'incontro in via Volta, le parti sociali incontreranno Dusman per la questione relativa ai presidi ex ASL, i cui nuovi termini sanciti dall'appalto entreranno in vigore dal 1 gennaio 2019.